Cos'è la vita? La vita può essere tutto secondo me Nel 2004 ho conosciuto una persona che praticamente abitava vicino a casa mia lui era cubano in quel periodo lì io me l'ho licenziato facevo l'idraulico e avevo discusso con il padrone del lavoro quindi non avevo lavoro, ero a casa tutto il giorno conoscendo questo signore qua mi ha proposto di avere un po' di soldi la maniera in cui potevo farli era di fare un viaggio in Sud America proposto da loro, i contatti mi davano tutti loro quindi l'albergo veniva pagato, il volo veniva pagato tutto quanto veniva pagato, se volevo andare con una donna veniva pagato qualsiasi cosa io volevo non c'era problema e niente dovevo portare in Italia della cocaina in che modo? mangiandola allora quando io l'ho conosciuto all'inizio la cosa mi spaventava però avevo bisogno di soldi, ho detto qual'è l'unica maniera per fare soldi velocemente perchè no proviamoci come prova? ma a casa mia mi aveva fatto provare siccome erano ovuli, ovuli di coca tipo grandi come mezzo pollice mi aveva fatto provare dei booster provare a ingoiare i booster io già all'epoca se mi davi una pastiglia mi veniva da vomitare non riuscivo a mandarlo giù però mi ha fatto capire il sistema in cui dovevo farlo e ho provato, ho provato, ho provato fino a quando sono riuscito niente io ho fatto quasi più o meno 15 viaggi in tutta la mia vita quasi tutti andati a buon fine diciamo e... belle no? le prime volte conosci le persone sai non sono mandato in sudamerica quindi altra cultura, altra gente sudamericani dalla festa tutto il giorno praticamente io mi svegliavo in un hotel di lusso mi svegliavo, colazione da paura e... poi volevo andare al mare, andavo al mare potevo scegliere la donna che volevo che la non era basta che pagavano arrivava chi voleva pensate che una volta addirittura ero io dentro l'abergo un 4 ore donne dovevo anche mandarle via perchè non andavano più via tanto per dirti no? non era la cosa divertitentissima la cosa però come tutto c'è il pro e il contro all'inizio tutto bello, tutto contento quando mi hanno proposto di fare sta cosa io ho accettato diti la verità un po' mi faceva paura sta cosa però mi servono i soldi e l'ho fatta dopo quattro viaggi che sono andati comunque a buon fine quindi ho visto la cosa anche abbastanza facile perchè io poi quando ero in aeroporto mi facevo amico di tutti sai era un po' abbastanza insospettabile prima ero un po' giovane sai eh... inesperto ma... quindi c'era quella innocenza diciamo dentro di me che non dava nell'occhio no? il singolo viaggio partiva con il volo diretto da qua in Sud America e invece per quanto riguardava il ritorno non si facevano sempre dagli scali non c'era mai... non si faceva mai un volo diretto da Sud America verso l'Europa cioè verso l'Italia si faceva magari uno scallo al nord Europa e dopo da lì si veniva giù col pullman altrimenti si prendeva un altro aereo con la partenza da... per esempio da Bruxelles per dire fino a Milano così non dava nell'occhio no? non c'erano tanti controlli si faceva questo per saltare i controlli diciamo tutto questo andava... andava bene fino a quando un periodo il materiale che... che veniva non era più un materiale buono e quindi bisognava cambiare la tratta questa tratta era diretta verso un posto dove la droga, la copaina non veniva tagliata tanto come dagli altri posti quindi si andava alla base madre nel senso in Colombia in Colombia, in Venezuela che sono i posti principali dove praticamente la coltivano e lì quasi pura no? niente... il problema è una cosa che a Santo Domingo si conosceva le persone si... negli aeroporti per poter passare no? perché là è tutto... tu paghi e passi in Venezuela la cosa era un po' diversa perché c'è molta corruzione quindi anche se... praticamente cosa è successo? che... facendo quel viaggio lì quali sopra di me dovevano pagare delle persone le persone non sono state pagate e quindi mi hanno fregato a Buona io ho convinto che la cosa era tutta... che si poteva passare normalmente invece quando sono arrivato la prima cosa che mi hanno fatto mi hanno subito fermato hanno iniziato a farmi un sacco di domande perché io non parlavo né spagnolo non lo parlavo bene bene quindi con l'accento da bergamasco sembravo un brasiliano figurati e loro erano convinti che io avevo documenti falsi e non erano loro capito? pensavano che io avevo documenti falsi e già solo per quel dubbio lì mi hanno fermato fermandomi siccome per mia volontà non... non volevo più mangiare gli ovuli di cocaina perché ho detto se mi si aprono sono anche pericolosi siccome avevo sentito dalle notizie che alcune persone erano morte per queste cose ho detto piuttosto preferisco guarda le nascondo io nella valigia vada come vada e così ho fatto purtroppo la cosa non è andata bene perché io appena sono arrivato lì i cani che erano lì in aeroporto hanno fiutato la mercanzia e mi hanno fermato subito quando mi hanno fermato mi hanno perquisito e hanno trovato la sostanza dentro nella valigia da quel momento avevo diritto la chiamata la solita chiamata di routine per avvisare la famiglia e mi avevano tolto mi avevano privato della libertà in un posto straniero del terzo mondo venezuela praticamente quando mi hanno arrestato mi hanno lasciato tre giorni con un'altra persona che era un olandese un signore olandese che aveva fatto la mia stessa cosa avevano fatto due arresti in quella giornata lì ero io e quest'altra persona ci hanno arrestato ci hanno messo sopra praticamente una scalinata al freddo anche di note ammanettato con una mano non sopra la ringhiera di questa scala senza mangiare bere se dovevo pisciare si potevo pisciare potevo chiedere se potevo andare al gabinetto proprio due minuti e dopo mi ammanettavano lì questo è passato per due giorni io e quell'altra persona e già lì è stato un inferno è l'inizio di un inferno da lì mi hanno portato a un carcere diciamo di transito dove sono rimasto in una cella per sei metri quadrati eravamo dentro in dieci dodici persone quindi se uno doveva pisciare e cagare sentivi tutto odori non potevi dormire perché giustamente dieci persone in sei metri quadrati ti dico te come cavolo può addormentarsi già c'è lo stress che uno tiene arrestato quindi questo tutto insieme era proprio un incubo in più c'era il carcerato che che vedendomi comunque con dei vestiti belli voleva impadronirsi dei miei vestiti e a tutti i costi sia nel bene che nel male io non ero d'accordo di sta cosa però ho visto che stavo mettendo a rischio la mia vita perché è iniziato a tirar fuori i cortelli non so da dove ma non so dove le appesi ma aveva dei cortelli in mano quindi di sera quando non c'erano le guardie questo soggetto veniva da me e mi voleva pugnalare capito? e io questa cosa la prendevo con un terrore non so non ce la facevo più fino a quando ho ceduto e gli ho dato le mie scarpe di ultima marca le ho dovute regalarle le faccio tieni basta che non non mi fai più niente e da lì diciamo che comunque è nata un primo impatto un input di amicizia di rispetto tra noi io gli ho dato le scarpe e lui in cambio mi ha dato un pacchetto di tabacco che aveva lì questo era diciamo uno scambio ecchio io do te tu dai a me che rido è stata una questione di rispetto anche da lì mi hanno trasferito nel carcere normale diciamo un carcere che teneva più di 1200 persone diviso da tanti padiglioni dove c'erano i peggiori assassini criminali stupratori tutti mischiati non separati tutti mischiati tra loro trafficanti sequestratori chi più ne ha più ne metta e lì è nato davvero il mio primo il mio primo incubo cavoli perché quando sono arrivato lì essendo in una città straniera ci hanno ci hanno preso proprio come loro essendo sudamericani del terzo mondo pensavano che noi europei avevamo soldi quindi quando siamo arrivati lì volevano derubarci ma derubarci di cosa ci hanno ci hanno fatto il benvenuto con cortelli e pistole messi nelle tempie eh e tentando di estorcisi qualcosa ma quando uno non ha niente cosa vuoi estorci cioè alla fine mi avevano già rubato tutto le guardie perché anche lì le guardie mi avevano preso le scarpe belle i profumi belli avevamo visto che comunque facendo quella vita lì i soldi li facevo e avevo facevo la bella vita diciamo no? e niente da lì ho capito più o meno come doveva funzionare la cosa ho imparato la lingua innanzitutto una lingua che non castigliano che non avevo non avevo mai studiato non avevo mai sentito molto simile all'italiano comunque perché arriva dal latino quindi piano piano ho iniziato a imparare la lingua e da lì anche rispetto delle persone rispettavano noi italiani e noi rispettavamo loro venezuelani il problema è che noi italiani non potevamo stare più di tre tre italiani insieme perché pensavano a dei complotti verso di loro no? figurati eh quando sono arrivato lì ho detto che mi hanno portato in tribunale dopo mille volte che andavo giù in tribunale e non c'erano mai come si chiama quelli che i traduttori quindi venivo sempre rimandato e per andare in tribunale facevamo tipo tre ore sulla camionetta legati dietro con le mani senza bere senza mangiare tutto il giorno non ti dico anche lì un inferno fino a quando è arrivato il giorno che mi hanno sentenziato mi hanno arrivato la condanna di dieci anni per traffico di droga ho detto dieci anni che devo stare qua cosa faccio devo trovare qualcosa per poter passare il tempo nel migliore dei modi e la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il lavoro quindi ho fatto domanda per poter lavorare in cucina mi hanno accettato la domanda e ho iniziato a lavorare durante il giorno quindi durante il giorno lavoravo le cucine nel carcere in Venezuela sono cucine veramente sporche schifose pentole incrostate con su chili e chili di olio non ti dico che sporcizia che c'era infatti le prime volte quando mangiavo lei non ti dico io ho mangiato per tre anni sardine in scatola e riso in bianco da lavarmi non c'era il bagno c'era solamente un coso di ferro dove veniva giù l'acqua corrente fredda perché poi ero al nord dal venezuela quindi faceva pure freddo mangiare mangiavo così dormire c'erano infiltrazioni di acqua dappertutto nei muri per terra topi topi che non ti dico ma topi che sembravano galline non erano topolini cioè erano grossi così e di sera quando venivano su dalle fognature no? vivevamo non c'erano uccelli era come un grande cortile dove tutti vivevano lì uno attaccato all'altro e se per sbaglio tu toccavi per sbaglio un venezuelano li toccavi magari mentre dormivi ti spostavi li toccavi per esempio la chiappa o la gamba eh? se erano lì chiedevi scusa tre volte almeno prendevano ti pugnalavano questa era la regola che c'era lì capito? perché ti prendevano per magari omosessuale sai no? ma comunque per quelle cose ci sono molto importanti lì e vivo col terrore perché sai quando uno dorme ti capita che magari ti sposti ti fai anche lì e impari alla svelta capisci? impari veramente alla svelta non ho mai dormito per cinque anni sul letto ho dormito sempre per terra con un materasino di cinque centimetri quindi non ti dico mal di ossa mal di... quando avevi un dolore non c'erano medici se ti facevano male i denti ti toglievano i denti così senza anestesia cioè cose allucinanti ho visto davanti a me non ti dico morti su morti ma proprio ammazzavano le persone così all'ordine del giorno solamente perché magari c'era sempre il motivo nel senso mi prevale la regola del rispetto se tu non rispetti io non sei sincero con le persone lì muori capito perché loro sono anche persone anche se sono criminali sono comunque persone di un certo rango nel senso che quando tu magari lavori e sei fuori dalle celle loro chiedono a sapere proprio quelle celle vai a comprarle non so una bottiglia di coca cola ti danno i soldi in mano con quei soldi in mano tu devi andare a comprare la bottiglia di coca cola non puoi permetterti di spendere quei soldi lì perché quando dopo ti vedono ti ammazzano capito è una questione di rispetto è una regola giusta secondo me invece se tu li porti la bottiglia di coca cola loro ti danno anche la mancia capisci cioè ti danno qualcosa perché tu gli stai facendo un favore a loro loro non potendo si muovere dalla cella tu che sei un lavoratore e puoi girare il carcere questa cosa devi portare giustamente altrimenti scarpa al morto i non visti di morti per due euro per due euro è proprio una cosa allucinante il processo che io ho fatto praticamente avevano condannato dieci anni da dieci anni condanna per droga per tutti i carci del venezuela volevano abbassare la legge per il traffico di droga e facendo questo mi hanno fatto una volta lo sciopero della fame durato 15 giorni dunque 15 giorni li potevano solamente mangiare caramelle bere liquidi ma non mangiare niente né pane né niente se sapevano che tu mangiavi ti ammazzavano ti accolteravano e così in quegli anni che io sono stato siamo riusciti ad abbassare la pena da dieci anni a otto anni rito la cosa è andata anche tramite il governo tramite il parlamento tutto quanto venezuelano è andata a buon fine una volta fatto questa eh se non portavano come si chiama a fine la loro il loro progetto diciamo di abbassare la pena veniva fatto anche con la con la lo sciopero di sangue vale a dire si chiama la huelga di sangue vale a dire che se vedi che la legge non cambia neanche in quel modo lì si passa le maniere più forti vale a dire io taglio te tu tagli lui fino a quando lì scappa al morto sai sanguinato sangue di qua sangue di là alla fine prima o poi devono fare qualcosa giustamente no? quali sono carceri veramente duri dove io ho visto persone essere decapitate e giocare a pallone con la loro testa cioè cose d'altro d'altro mondo proprio da film non ti dico chi tentava la fuga lì veniva messo in una stanza due metri quadrati per due metri quadrati in un buco gli veniva dato da mangiare in una tola come quella della pittura con dentro il primo secondo contorno acqua tutto dentro una tola come i maiali uguali quindi non ti dico che trauma che psicologico più che altro non tanto che tu sei lontano da casa ti fai a carcere non è quello proprio un trauma che ti porti dentro niente io quando lavoravo in cucina mi son fatto amico diciamo dal responsabile della cucina e con loro andavamo con l'ordine della direttrice andavamo in un magazzino per prendere tutte le come si chiama l'olio la pasta il riso per prendere qualsiasi cosa per poter cucinare per la popolazione carcelaria fino a quando vedevamo che comunque era talmente tanta la roba che avevamo deciso pure di venderla quindi questo era anche un business no? per noi perché in qualche modo magari dentro nel carcere c'erano dei piccoli supermercati dove tu se avevi soldi potevi farti la spesa comprati una coca cola comprati le patatine e non mangiare il mangiare che comunque mangiare di un carcere sempre mangiare di ultima scelta passando sia dalla frutta che anche dalla frutta la trovavi frutta strabona frutta verdura quello che è passando dalla frutta ma anche le altre cose cioè qualsiasi cose che ti davano anche le cose liquide erano o la minestra erano tutte passate con l'acqua quindi proprio cose le ultime cose le cose più brutte le cose più schifose diciamo io stando la ho imparato cos'è il rispetto mi sono acquistato la fiducia dai venezuelani perché i lavori che loro mi hanno fatto fare vale a dire io lavoravo anche in un piccolo supermercato dopo che sono ho lavorato in cucina ma hanno messo pure in un supermercato lavorare gestito dai venezuelani vedendo che io comunque ero rispettoso e non non rubavo più che altro niente se volevo qualcosa la chiedevo ho acquistato la loro fiducia no? dentro nel carcere praticamente girava di tutto dalle puttane scusate il termine dalle puttane alla droga all'alcol qualsiasi cosa tu potevi avere lì avevi basta pagare avevi diritto a far tutto quindi allora ho conosciuto puttane e praticamente procuravo le puttane ai miei paesani ai miei compaesani italiani perché quei carci grandi così ci sono carci che ci sono allora americani africani eh tedeschi spagnoli portoghesi inglesi c'è di tutte le razze in quei carcieri no? e io con i miei paesani praticamente siccome sapevo comunque gestire la situazione procuravo delle puttane per loro procuravo delle puttane giustamente c'era l'italiano che magari si faceva mandare alla West Virginia dal padre avevano i soldi giustamente devono fare tanti anni si sfogavano così no? e per piacere dopo io ero diventato amico di queste puttane qua praticamente dopo a me facevano servizio gratis in più mi davano pure dei soldi figurati quello con le puttane dopo c'era praticamente io alcune alcune volte c'era per esempio il latte in polvere che il latte in polvere in sud America è una delle cose che tu paghi molto tanto no? e siccome noi ne avevamo quantità lo vendevamo alle famiglie ai familiari dei detenuti no? e loro in cambio portavano ci portavano della droga proveniente dalla strada capito? erano scambio uguali i come si chiama i militari che lavoravano dentro la stessa cosa per la famiglia venivano lì come se facevano una spesa da noi loro facevano la spesa e in cambio ci davano le bottiglie di rum capito? robe così ma ti dico quanti ma portavano via le carriole piene di mangiare perché comunque era mangiare buono nel senso anche verdure ce ne avevamo no? le verdure più belle le cose più belle i platò di uova le davamo ai militari no? niente questo per quattro anni poi dopo lì per un cilindro quei carceri non è che ti basta fare la condanna oltre a fare la condanna devi anche fare un test psicologico per vedere se tu sei idoneo a rientregarti nella società questo test quando l'ho fatto io non l'ho passato anche se ho messo delle risposte che mi sembravano ovvie nel senso tu quando vai esci dal carcere cosa volesti fare? io la prima cosa che ho detto cosa vorrei fare? mi volevo trovare un lavoro insomma ma questo non ci credevano no? per fare sì che dovevano credere a sta cosa non so cosa dovevo fare fortunatamente io avevo una conoscenza in venezuela che c'era un prete che conosceva la mia famiglia e praticamente questo prete conosceva una signora che era eh la ex moglie del presidente del venezuela che conosceva tantissima gente questa persona qua no e siccome l'ha un paese talmente corrotto che alla fine chi vige vige solo i soldi no? quindi i miei genitori hanno tirato fuori quasi diecimila euro per poter farmi uscire da quel cavolo di carcere lì e così è stata ha pagato la signora la signora ha pagato altre persone per poter farmi passare questo esame e per poter essere libero no? che anche lì praticamente non ero libero del tutto anche se la condanna era finita dovevo lavorare per tre anni la prima dei tre anni non potevo rientrare in Italia quindi cosa ho fatto? ho trovato un lavoro in un ristorante come poco no? così di giorno lavoravo questo ristorante e da sera rientravo ancora in carcere solamente per dormire però un giorno la signora del ristorante mi fa guarda stai lavorando troppo vai a farti un giro vai a farti un giro che che almeno ti distrai un po' sai sei in libertà comunque sei in semi in libertà vai a vedere io un giorno mi sono andato a fare un giro e dietro di me ho sentito un rumore erano praticamente dei poliziotti con delle moto mi hanno preso hanno chiamato una volante della polizia e mi hanno caricato sulla camionetta senza alcun motivo solamente perché io ero lì fermo a prendere il sole e dicevano che io avevo violentato una donna la loro parola di sbirri contro la mia di una persona normale e da lì ho detto no mamma mia un altro incubo ho detto sono riuscito a uscire mi vogliono riportare dentro così senza motivo capisci non sapendo come fare non so come ho fatto sono riuscito a convincere uno dei poliziotti a farmi fare una telefonata ho telefonato alla signora che lavorava con me al ristorante dicendogli che veramente io stavo lavorando in un ristorante non gli ho fatto solamente fare un giro e basta siccome lei era una persona di un certo rango non gli hanno creduto da lì mi hanno liberato da lì ho detto guarda non esco più non vado più a fare un giro vado a lavoro 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 carcere carcere lavoro e basta e così l'ho fatto per altri tre anni fino a quando dopo ho finito la mia condanna e sono rientrato in Italia questa esperienza mi ha servito tantissimo perché diciamo la verità non è io mai ho visto gente così cioè morti davanti a me criminali però viveva tanto il rispetto comunque perché ho ottenuto comunque ho avuto delle belle conoscenze delle persone che tuttora le sento e ho sempre un aggancio con loro no? volendo posso andare a trovarli quando voglio perché non ho mai non mi sono mai comunque comportato male con loro non ho mai rubato quindi c'è sempre stato un rispetto reciproco e anche perché non volevo morire io capisci cioè non è vita è sopravvivenza è diverso un'altra cosa gli episodi che hai visto in carcere quando mi hai detto che hai visto persone che venivano ammazzate puoi raccontarmi un po' questi episodi qua? venivano ammazzate per debiti di soldi perché là i venezionali ti prestavano pure per esempio ti faccio 100 euro per 150 euro tu prendevi 100 euro dovevi dirgli la data precisa del giorno che ti arrivavano i soldi se non arrivavano quei giorni li prendevano e c'erano delle conseguenze capito? e quindi io ad esempio ho visto una persona era un brasiliano un ragazzo giovane tra l'altro solamente per 50 euro che si è fatto di debito per droga comunque per droga dandogli una parola a queste persone non mantenendola l'hanno preso l'hanno acrivellato pienamente in faccia quando l'hanno chiamato gli hanno detto vieni con un attimo che ti devo dire una cosa lui è arrivato ingenuamente l'hanno acrivellato di colpi poi la gente che veniva tagliata fatta era sempre perché comunque dentro nel carcere aveva fatto qualcosa non è che la prendono ti ammazzano così perché sei tu o perché sei straniero questo non succede mai queste cose qua succede solamente perché se tu rudi o vuoi fare una prepotenza con qualcuno perché lì non c'è nessuno di prepotenti di tutti sono sulla stessa barca anche se sono assassini criminali vince sempre la regola del rispetto capito? per quello che io dopo gente che non rispetta gente che ruba gente che vuole fare il furbo allora lì prendono subito le precauzioni poi anche un'altra cosa importante che in venezuela quando c'è ci sono i colloqui con i parenti nessuno delle altre persone almeno che loro diano il permesso può guardare la famiglia di un detenuto specialmente le donne di un detenuto se si accolgono che tu per sbaglio guardi solamente una donna quando è finito il colloquio ti prendono e ti mettono in uno stanzino i capi del padiglione che sono venezolani ti prendono 4-5 persone ti massacrano di botte ti lasciano lì comunque dopo non c'è ambulanza non c'è niente stai lì con i tuoi dolori certo non ti ammazzano però ti ti fan capire che queste cose non devono essere fatte il rispetto lo vedo anche giusto io sta cosa io ero uno che ad esempio quando arrivavano le famiglie siccome sono italiano ero bravo a far da mangiare facevo le pizze anche per per i venezolani quindi gli stessi familiari dei detenuti mi chiamavano mi ordinavano le pizze per la settimana prossima per dire robe così ma sempre ambito di lavoro non ho mai sì buongiorno buonasera sempre rispetto capito perché non volevo mai che magari pensassero qualcosa di diverso non lo sai invece quella volta che hai visto una persona che è stata decapitata e poi hanno giocato a pallone con la sua testa cosa è successo? mi viene da male questo è successo che praticamente dentro il carcere giravano delle pastiglie che erano pastiglie non erano erano psicofarmaci che riuscivano a prendere degli detenuti illegalmente dai dettori no? e queste pastiglie qua praticamente ti facevano andare fuori di testa mischiate con l'alcol poi e droghe non ti dico che mix che sostanza e quella volta lì che praticamente hanno decapitato sto ragazzo è successo così che per sbaglio sto ragazzo aveva guardato una donna di un detenuto quando è finito il colloquio l'hanno preso siccome lui era era venezolano quel ragazzo qua attenzione non era stato niente lo venezolano e l'hanno preso l'hanno messo in uno stanzino senza dirne ne ho col macete l'hanno decapitato l'hanno decapitato dopo quando comunque le guardie si sono accorti che il detenuto mancava quando hanno fatto il conteggio hanno visto che il detenuto mancava sono arrivate l'ambulanza è arrivata la televisione e la stessa famiglia ha visto che il suo parente è morto in quel tragico episodio lì no? cioè è proprio una cosa un'altra persona ad esempio gli giravano armi fucili pistole cortelli bombe a mano addirittura bombe a mano granate un ragazzo una volta con la spoletta della bomba era lì talmente in aria talmente fuori di testa che si è tolto la spoletta lì non si è accorto la bomba l'aveva in tasca gli è partita tutta la la gamba e oltre a lui ha ferito altre persone no? cioè una cosa da film proprio una guerra dopo quando c'era il predominio del carcere anche perché il carcere veniva suddiviso in diversi padiglioni no? e ognuno voleva comandare giustamente per per i soldi no? perché girava talmente tanta droga tante cose che girava talmente tanti soldi e quando succedevano per il predominio per il predominio del carcere succedevano sparatorie sparatorie che arrivavano proiettili dappertutto non sapevi da che parte metterti sì sì c'era roba allucinante mitragliatori che senti bombe di qua bombe di rani mi sembrava di essere in un film veramente non sapevo più da che parte mettermi per nascondimi addirittura il ragazzo poveretto che aveva 18 anni aveva fatto 4 anni di carcere ero uno dei capi del carcere è stato colpito qua al midollo dietro è rimasto sulla sedia alla tele dopo due giorni che dovevo uscire dal carcere per dirti avvenimenti proprio vedi di quelle cose lì che dici ti cambia la vita perché dopo vedi quelle cose lì è una cosa allucinante sono arrivate anche la tru televisiva delle viene a intervistarci volevano sapere come mai come si poteva trasportare la droga ci sono mille metodi al giorno d'oggi poi la puoi mangiare la puoi metterne i vestiti la puoi lasciare lì così com'è come funzionava questa economia nel carcere nel senso che vuole capire come facevano i detenuti in generale ad avere soldi là dentro detenuto classico tipo europeo il detenuto europeo tipo può essere tedesco spagnolo olandese francese italiano ogni mese arrivava l'ambasciata italiana l'ambasciata francese l'ambasciata inglese veniva e ci dava abbiamo diritto a un tot di soldi capito tipo adesso faccio un esempio 150 euro al mese ogni mese viene l'ambasciatore proprio l'ambasciatore del venezuela l'italiano per dire e viene e porta i soldi al detenuto capito e con quei soldi lì cosa fa uno deve innanzitutto pagare una piccola quota tutti i mesi a loro venezuelani la quota serve per comprare armi comprare munizioni comprare materiale per pulire i bagni perché anche quello conta e comprare droga anche chi non la usa nel senso tutti devono mettere la loro parte se invece ci sono persone che veramente tipo ad esempio c'erano sudafricani sudafricani ad esempio che non avevano l'ambasciata che veniva di quella di là non gli veniva chiesto niente se invece venivano a sapere che tu prendevi i soldi dall'ambasciata e non li davi a loro per le loro cose gli succedeva al finimondo ad esempio capito arrivava l'ambasciata italiana per poterci mantenere per poter comprare delle piccole cose per poter cambiare il tipo di mangiare per comprarti un pane per comprarti una coca cola capito qualsiasi cosa poi c'era ad esempio sempre una volta al mese veniva anche il prete il prete che invece ci portava ci dava un sacco di mangiare con dentro olio pasta riso le cose principali capito ogni mese anche quello il problema è che come noi italiani ad esempio ci facciamo sempre riconoscere da tutti c'era l'ambasciatore che invece che portarci i soldi che doveva portarci ce ne portava la metà questa cosa noi l'abbiamo scoperta tramite una sorella di un nostro amico detenuto che lavorava dentro quelle cose lì e abbiamo preso precauzione abbiamo denunciato l'ambasciatore pensate e da lì ci ha messo un po' per per toglierlo da lì però l'hanno tolto dal loro compito non l'hanno messo in alto che dopo giustamente ci dava quello che ci aspettava no? perché non chiediamo niente di più niente di meno solamente al giusto basta una cosa brutta che tu l'ambasciatore viene rubare a noi detenuti viene rubare a mangiare a noi se noi quello ci spetta di diritto capisci? è una cosa proprio queste cose dovrebbero sapere il governo il governo italiano dovrebbe sapere queste cose che c'è un magna magna dappertutto specialmente vengono a rubare sui detenuti sulle spalle dei detenuti già stanno soffrendo e figurati voglio mandare quel messaggio qua proprio per far capire come funziona all'estero l'ambasciatore italiana è uno schifo io lo dico proprio è uno schifo no? il risveglio la mattina la era presto non è che tu dici in carcere la posso dormire di fare di fare no 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 assolutamente non è così tutte le mattine alle 6 della mattina c'era la sveglia la sveglia servita dai militari militari che erano della guardia nazionale antidroga venezuelani venivano armati di fucili e venivano a fare la conta nel padiglione in caso doveva mancare una persona capisci? doveva scappare qualcuno tutte le mattine questo poi il carcere dentro veniva gestito comunque da venezuelani quindi li gestivano loro se tu potevi dormire di più dovevi dormire di meno in base a quello che loro volevano ogni tanto veniva cantata una luce rossa che si chiamava luce rossa per quando venivano si sapeva prima questa cosa praticamente che venivano fatte delle perquisizioni quando venivano fatte delle perquisizioni noi avevamo molto tempo prima per poter nascondere armi, droga praticamente cosa facevano? mettevano proprio sul pavimento facevano dei buchi nel suolo nascondevano armi droga proiettili tutto quanto e col cemento la ricoprivano no? quando arrivavano le perquisizioni erano perquisizioni proprio da film tutti vestiti di nero buttavano i lacrimogeni dentro e partivano ci mettevano praticamente tutti ci buttava in aria tutto quello che potevano buttare in aria cioè non avevano ritenio rispetto di niente proprio i tuoi vestiti li facevano saltare di qua e di là per trovare droga per trovare armi che poi alla fine erano loro i primi a portarle dentro capisci? cioè è una cosa assena e oltre che spaccare tutto quanto dopo quando loro venivano la gente veniva anche picchiata nel senso nudo mani dietro capito? amma tutti nudi tutti su magari in un cortile no? tutto il carcere tutti spogliati tutti amanettati tutti tutti nudi così per ore e ore e ore fino a quando non finivano le persone perquisizioni quando finivano le perquisizioni oltre a quello dovevi andare a cercare i tuoi vestiti dovevi andare a cercare tutte le tue cose cioè le trovavi giustamente perché dopo venivano sporcate dal cemento dalle cose perché spaccavano i muri spaccavano tutto 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 magari anche lavoretti che dentro il carcere si fa sai i lavori didattici magari fatti con le mollette con la colla ad esempio a volte facevano dei dei lavoretti fatti con la carta igienica facevano dei cofanetti strabelli fatti col cartone ma fatti bene quindi erano cose che dopo magari uno dava alla famiglia no? distruggevano tutto non avevano ritenuto rispetto di niente su quelle cose lì quelle erano perquisizioni proprio perquisizioni molto pesanti molto pesanti oltre che a respirare anche prodotti chimici compitevano loro prodotti e bombolette al peperoncino o a gasso forifero proprio che respiravi stavi malissimo per poter respirare usavamo degli strazzi imbevuti con dell'aceto capito? lo mettevi sotto il naso e dovevi stare a 5 cm sotto terra praticamente sdraiato al suolo per non far sì che non respiravi tutti i casi nelle azioni era una cosa era un inferno diciamo era proprio un inferno superato quel trauma qua quella esperienza qua comunque rimane tutta la vita e rimane insegnato nel senso io quando ero in corso in venezuela ho imparato anche a costruire dalle armi praticamente illegali diciamo che venivano fatte con un tubo quel tubo qua veniva preso magari dalle sbarre del letto no? di una branda di ferro veniva messo dentro in questo tubo della cera con un pezzo di ferro a punta praticamente e degli elastici e dei guanti lattice scusa presi dall'infermeria capito? veniva fatta una pistola artigianale abbiamo costruito una pistola artigianale quello facevano poi pezzi di ferro così che venivano limati continuamente per terra per fare i cortelli queste erano armi o altrimenti della della plastica bruciata facevano i punteruoli ma punteruoli tu prendi le bottiglie di plastica le metti sul fuoco diventa plastica sciolta dura fino a quando le facevano punteruoli dove ti potevano brucare tranquillamente un'arma da taglio ecco queste erano armi che c'erano la oltre a bombe a mano bombe a mano bombe che veniva costruite artigianalmente devono essere sempre in movimento erano fatte con la benzina degli aerei non so da dove proveniva sinceramente non volevano anche saperlo però venivano costruite e tu dovevi sempre tenere il movimento dal momento che tu non la tenivi in movimento la lanciavi lì esplodeva capito erano proprio bombe artigianali fatte artigianalmente le costruivano loro queste cose erano segreti che avevano loro che costruivano loro e non venivano rivelati da nessuno capito venevano per loro giustamente non è che vai detti come devono l'atto pratico avevo delle armi solamente per difesa non vale a dire non con la gente nel mio padiglione ma con la gente esterna nel mio padiglione capito? se venivo io attaccato da qualche altra persona ma senza motivo magari perché pensavano che io avevo dei soldi avevo chissà cosa e volevano magari mi stavano attaccando io per difesa avevo delle armi avevo cortelli avevo pistole anche non tutti potevano tenere la pistola attenzione però dovevi passare almeno due anni lì con loro e far vedere dimostrare che in quei due anni eri con loro allora lì loro ti davano in mano pistole le munizioni cose non la davano al primo cioè se tanti ti mettevano in carcere oggi domani non ti davano la pistola giustamente ti dovevano conoscere prima no? come persona passato quel tipo di periodo lì allora si ti davano comunque ti davano comunque anche chi non aveva armi veniva comunque protetto dagli stessi carcerati capito? non è che altro non è che loro erano scoperti o sempre venivano coperti da tira con loro capito? dallo stesso padiglione perché se veniva un attacco da un altro padiglione loro tranquillo che venivano aiutati non è che li lasciavano lì così anzi no se quello ci mette a dire per quello che tutti i mesi dovevano pagare per le munizioni però anche per la difesa no? per una cosa comunque che uno dice io pago e non voglio pagare no? non devi pagare perché tu paghi paghi sempre per la tua difesa comunque paghi anche per cosa? per magari per la pulizia dei bagni perché se tu non compri i prodotti erano schifo la sulla pulizia guarda io ero in un padiglione che c'erano dentro 130 persone in 130 persone c'erano tre bagni tre turche dove quelle tre turche qua non c'erano delle porte dove tu aprivi chiudevi era tutta la luce del sole quindi se tu stavi cagando scusa il termine passava fuori delle persone perché 130 persone in 70 80 metri quadri per fare la svelta nel senso cioè passano tutti lui quindi sentivi odori cose quindi figurati e la pulizia è molto importante perché se io vado in bagno e tu vieni dopo di me io magari no ti ho dato bene l'acqua o succedono i casini dopo capito? lì veramente succedono dei casini su quelle robe lì veramente ti ammazzano quelle sono cose veramente che se tu non pulisci e quando vai al gabinetto non tiri l'acqua come devi tirare sai capita che magari che quelle cose no perché se derivano dopo di dita derivano delle malattie capito? possono prendere le malattie ci puoi trovare anche seriopositivi nel senso gente con l'epatite tu non lo sai non è che vai a guardare la catena clinica giustamente quindi si chiede rispetto pulizia in quelle cose lì a me mi è sempre andata bene ti dicono la verità però mi sono trovato dalle situazioni che ci sono state delle sparatorie per altre cause mi sono trovato in mezzo non sapendo dove nascondermi sentendo solo pistolate dappertutto capito? quindi ero molto traumatizzato ho detto mi metto di qua non so se mi arriva un tiro di qua non so se mi arriva come Dio comando mi sono messo giù per terra proprio sdraiato ho detto speriamo che Dio mandi buona nel senso che non mi succeda niente mi è andata bene altra gente è stata meno fortunata di me ti l'ho detto quel ragazzo lì che mancava poco per uscire hanno beccato due tiri qua dietro mi dò è rimasto cioè dipende capito? l'altro le hanno tagliato i tendini un ragazzo uno spagnolo le hanno tagliato i tendini a un ragazzo spagnolo le hanno sparato con un tiro di falco e le hanno sfrantumato la caviglia ma perché ci stava arrivando una perquisizione quindi tutti dovevano rientrare nelle celle questo ci ha messo più tempo degli altri e hanno iniziato a sparare gente che vedevano fuori hanno iniziato a sparare no? non è che guardano tanto in faccia hanno iniziato a sparare fino a quando quel ragazzo lì non è più stato normale col piede eh quindi poi lì avrà preso dei bei soldi anche lui quando sarà rientrato in Spagna dall'ambasciata italiana perché dopo lì dopo comunque è un invalido no? nel senso è un' invalidità anche quella è giusto per essere chiari il tuo stato attuale di salute e tutto quello che è successo a te non c'entra niente con il carcere no non c'entra niente questo ho avuto un altro problema assolutamente io da calce sono tornato sono tornato un po' magro quello si pesavo 45 kg e che ho denutrito no? sai che comunque non è che mangi la carne rossa mangi così così no? ho mangiato anche lo squallo lo squallo lo squallo lo squallo carne di squallo si 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 che non ho mangiato frutti che sono là comunque frutti straboni la frutti la verdura non ci dico l'eroe comunque sono tornato grazie a Dio ho finito tutta la mia condanna e ho passato e ho superato sta cosa perchè adesso sono passati anni e anni la posso raccontare normalmente no? prima ti dico la verità che anni e anni i primi anni che io sono rimasto qua in Italia io ragionavo ancora come loro quindi mi sembrava di essere un selvaggio capisci? non ero civilizzato perchè purtroppo non c'è gente civilizzata l'artista in realtà è questa perchè oltre alla povertà c'è pure l'ignoranza quindi è un bel mix di sostanze che esplodono e quando esplodono non c'è tanto da ragionare lì capisci? se tu guardi uno e lui ti continua a guardare se tu gli stai sulle balle questo prendi e ti spara capisci? così può capitare può capitare può capitare posso capitare queste cose qua quindi abbiamo stato molto molto autentico agli occhi ben aperti lì mi hai detto che una volta facevi una vita incredibilmente bella dove abitavi in hotel di lusso e facevi una vita proprio sfarzosa esatto e poi appunto sei finito in carcere cioè vuol dire qua sono le tue impressioni visto che c'è un contrasto incredibile tra una vita molto agiata e una vita tra le stelle e le stalle la mia riflessione è stata ne vale la pena questa è stata la mia riflessione dentro di me quello che io ho passato facendo la bella vita mi sono divertito è durata non tanto un po' di anni ma non proprio tanto tanto perché prima o poi io credo che facendo quel tipo di vita lì volendo non volendo prima o poi ti prendono e ricordiamoci bene che la vita i soldi facili li spendi facilmente che vanno via facilmente i soldi onestamente è diverso capisci cosa è la mia riflessione vado a dire che non ne vale la pena comunque anche se ho fatto la bella vita per due anni e dopo passare di merda altri cinque dici lontano dalla famiglia dici comunque io credo che almeno da quanto mi riguarda non glielo auguro a nessuno quello che io ho passato quindi magari era meglio lavorare esser tranquilli capito che fare quel tipo di ruido un senno di poi e quindi se tu potessi tornare indietro nel tempo e ipoteticamente riuscire a continuare a fare il traffico di droga senza mai essere beccato ti sarei piaciuto farlo a oltranza se fosse stato possibile a oltranza no però arrivare a un punto dove puoi dire basta con tanti soldi puoi investire in altre maniere nel senso magari ti apri un negozio comunque lavorare se non vuoi lavorare mettere sotto qualcuno lavorare sotto il tuo posto capito però no all'infinito no sicuramente anche perché chi troppo vuole a nulla stringe come dice il proverbio no assolutamente no su questo arrivare a un certo punto arrivare a un punto della tua vita dove puoi dire fermati e quei soldi che hai tirato su velocemente per poter magari aprire un negozio o una pizzeria non lo so capito comunque per una cosa comunque legale dopo capito tutto qua io lo avrei fatto per quel motivo lo avrei fatto così capito problema che dopo come ti ripeto anche i soldi i soldi fatti facilmente con anni e anni passati in carcere devi pagare per il mantenimento devi pagare gli avvocati quindi ancora quei soldi lì vedi che svaniscono nel nulla ancora capisci ora come ora quali sono le cose che hanno valore reale per te essere una persona normale nel senso io rispetto io rispetto tutti i miei rispetti educazione essere educato non non sottovalutare mai nessuno anche il piscino che sembra magari che tu dici che è scemo mai sottovalutare le persone perché non si sa mai chi trovi davanti invece a livello di beni materiali o altro? a livello di beni materiali ti dico la verità che nessuno comunque ci guarda anche quello nel senso sai avere magari una bella macchina per dire un bel vestito fa parte comunque della tua vita certo non vivi non cioè allora non sono importanti fino a nel senso perché puoi essere contento sia anche che sei con un paio di pantaloncini e puoi essere scontento e non felice avendo dei vestiti di marca capisci mi sembra sempre la testa comunque la persona poi se i materiali si fa piacere è bello andare in giro con un ferrari per dire no ma se non sei contento puoi andare in giro anche con la bicicletta e essere contento per dire no la stessa cosa quindi non è che ci guardo si ci guardo ma non tanto adesso come adesso ti dico che con le esperienze che ho avuto preferisco avere di meno e quel poco che ho che è tranquillo piuttosto che avere tutto subito e trovarmi a soffrire un'altra volta e ritornare ancora quindi dopo queste esperienze qua io spero sempre di non commettere più stessi errori giustamente soffrire 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 nel senso preferisce vivere con meno quindi le cose materiali di meno ma essere più contento più felice più sereno che la mattina ti svegli sei nel tuo letto o non in un letto con altre persone o che devi sempre chiedere per poter andare di qua andare di là la libertà non apprezzo proprio non apprezzo non apprezzo poi anche un milione di euro se tu mi dici fatti dieci anni di calcio ti dico fatti di te tieniti tu i milioni di euro io sto così che è meglio cosa è vita cosa è vita la vita la vita può essere tutto secondo me può essere un fiore può essere un cane il mio cane è la mia vita capito il mio gatto mia madre mio padre qualsiasi cosa che comunque credo dà vita perché dalle piante per esempio dagli animali le piante dall'uomo cos'è l'uomo l'uomo un essere umano una vita una vita una cosa vivente cose viventi certe non sono cose materiali che danno vita secondo me cose materiali non esistono la vita è una tipo una storia che uno può raccontare un bagaglio che ti rimane appresso io lo so è un film mi sembra di essere un film veramente è un film